Ciao a tutti da DiegoDitecnophone.it Questo è un video registrato con il Vivo X51 Uno smartphone con una fotocamera davvero spaventosa ragazzi In questo momento sto camminando E sembra che sto utilizzando un drone dalla stabilizzazione Che ha questa fotocamera Viene chiamata gimbal camera Gimbal camera diciamo Per dirlo un po' italianizzato Perché? Perché ha un sistema di stabilizzazione pazzesca Basata su degli elettromagneti Che permette di stabilizzare praticamente a 360 gradi E la stabilizzazione è davvero eccellente Ok? Abbiamo poi la possibilità di zoomare Zoomare, zoomare, zoomare Fino ad un 10x digitale Mentre il 5x è un 5x ottico 5x che ha una risoluzione davvero molto molto buona Adesso ho un po' zoomato un po' troppo Non si vede niente Torniamo indietro Sempre camminando Ma è possibile anche poi Passare alla lente grandangolare Però diciamo Durante la registrazione non ci fa spostare Vediamo adesso come si comporta con un cambio di luce Così Andiamo ad inquadrare da vicino Un oggetto Questi bei peletti Guardate qua ragazzi Che spettacolo Ci spostiamo La messa a fuoco è davvero molto molto rapida Direi anche istantanea Devo dire che i dettagli sono davvero eccezionali Così come anche la riproduzione dei colori È veramente al top Quella che vedete inquadrata è la fortezza firma fede di Sarzana Ciao da Diego